Signore Dio, che è volontà distinta di molti popoli e di umana famiglia, da Te è creata e redenta, guarda benigno a noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi l'Italia. Aiutaci, oh Signore, affinché, forti della Tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla Patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della Tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano d'esempio a tutti i cittadini, nella fedeltà ai Tuoi comandamenti e alla Tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi, nella consapevolezza viola e disciplina verso l'autorità costituita, e concedi a noi e alle nostre famiglie la Tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro padrono San Matteo. Amen. E se pensi, riso!